Martedì 15 aprile e mercoledì 16, presso il Dipartimento di Studi Umanistici di Via Paradiso, si è tenuto l'incontro con Ico Gasparri, il mito e l'astrazione come linguaggio politico della fotografia d'autore. Questo seminario è il secondo appuntamento di una serie di quattro incontri organizzati dalla professoressa Ada Patrizia Fiorillo, docente di cultura visuale dell'Università degli Studi di Ferrara. Dopo l'introduzione della professoressa Fiorillo, il fotografo Ico Gasparri, vincitore di svariati premi, ha tenuto il seminario supportato da una ricca collezione di fotografie. Gasparri, partendo da un suo lavoro interpretativo, Odissea Minima, lavoro fotografico e teatrale che affianca immagini in bianco e nero con testi di Omero, ha spiegato alcuni suoi lavori portati agli studenti, riscuotendo la loro attenzione e curiosità. Grazie. Grazie.